E' emergenza sbarchi sulle nostre coste, i centri di accoglienza sono ormai saturi ed ecco che scatta la solidarietà delle associazioni di volontariato presenti sul territorio come l'arcipesca sezione di Vibo Valencia che dopo una prima esperienza con un gruppo di immigrati ospiti nella città capoluogo ha deciso di accoglierne altri 270 provenienti per lo più dal Mali qualcuno dal Gambia e anche dalla Nigeria da qualche giorno la comunità alloggia in un noto albergo di Briatico a prendersi cura di loro una ventina di volontari della protezione civile coordinati dal presidente dell'arcipesca Marco Talarico E' una sfida molto importante soprattutto perché si aiutano persone che come avete avuto modo di poter vedere hanno il loro bagaglio culturale, religioso e quant'altro che devono essere aiutate sono persone che probabilmente quasi tutte chiederanno lo status di rifugiato politico e quindi seguirà poi l'iter burocratico, la commissione di Crotone valuterà pratica per pratica se questi ospiti così vengono definiti dalla convenzione sono naturalmente meritori di avere lo status di rifugiato politico Per i fedeli islamici il mese della preghiera, del Ramadan la guida spirituale è questo giovane del Mali scappato dalla sua terra in guerra la sua unica speranza, dice ai nostri microfoni, è quella di ricongiungersi con la famiglia E' lasciato il suo padre e la mamma e la moglie a un bambino piccolo L'importante è che lui voleva lavorare, l'importante è che sta tranquillo che avrà un lavoro, che potrà stare tranquillo e riesce a portare la sua famiglia